Vorrei una coccola Dory è una pesciolina smemorata che ha da poco ritrovato la sua famiglia vive nella barriera corallina con Nemo e tanti altri buffi amici oggi Dory girondola sul fondo del mare davanti alla casetta in cui abitano i suoi genitori all'improvviso noto una conchiglia colorata mamma adora quelle viola pensa tra sé e sé Jenny e Charlie raggiungono la loro piccola è il nostro ultimo giorno qui dice la mamma spero che nella nuova casa ci siano tante conchiglie Dory non vede l'ora di mostrare ai suoi genitori la barriera corallina sono felice sono così felice dice Dory e la sua famiglia su venite qui voglio farvi le coccole tra le pine dei genitori Dory si sente sente al sicuro grazie a tutti grazie a tutti